Evento temporalesco localmente intenso ieri tra la zona di Torre nel comune di Padova e il comune di Cadoneghe. Un downbust ha provocato la caduta di vari rami nella zona e di due robine all'interno del giardino della scuola dell'infanzia Stella Matutina, attualmente chiusa per ferie. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, i tecnici comunali e il parroco. L'edificio, seppur di proprietà del comune, è in gestione e in terreno parrocchiale. Sembra che la situazione fosse nota e secondo Palazzo Moroni era monitorata, tant'è che c'erano già stati interventi all'indomani dei grandi temporali di luglio. Oggi sono partiti i lavori per il ripristino dell'area e la messa in sicurezza. Svi Sio Marciano nel News, Padova.